In collaborazione con GESAC, aeroporto di Napoli Yamamai Valori medi per cento Ma benvenuti ad una nuova puntata del nostro Salute Oggi, lo avrete capito, ci occupiamo di un argomento molto importante Proprio per il nostro benessere, per la nostra incolumità e per la nostra informazione Quella delle etichette alimentari Spesso assolutamente illegibili o perché sono messe in posizioni particolari E delle confezioni o perché scritte piccole, piccole, piccole Ne parliamo con un vero esperto che ci ha tenuto compagnia spesso in questa stagione del nostro Salute E già qualche tempo fa, quando abbiamo parlato di sale Con te Andrea Tondini, gastroenterologo, dietologo e vero esperto in questo settore Abbiamo identificato l'importanza di leggere bene le etichette Sempre che si possano leggere, no Andrea? Ma certo, si devono leggere, una delle caratteristiche dell'etichetta è quella di essere leggibile Di essere chiara, di avere dei caratteri tipografici che siano evidenti e indelebili Perché deve accompagnare l'alimento per tutta la vita L'etichetta è la carta d'identità praticamente di un alimento E di conseguenza il consumatore deve poter e deve saperla leggere Proprio per fare delle scelte consapevoli sia in termini di salute E anche perché no in termini economici Certo Ci sono delle leggi che regolamentano le etichette alimentari Una legge del 92 italiana ma una legge più recente della comunità europea del 2011 Che praticamente insistono sul fatto che il consumatore sia informato sul marchio Su le caratteristiche dell'alimento Tra l'altro il produttore non può fare dichiarazioni mendaci, fasulle Da questo punto di vista, scusami se ti interrompo L'Italia è un passo avanti Assolutamente Siamo veramente molto molto controllati Sicuramente Però le novità che sono state introdotte soprattutto dalla legge europea Riguardano l'aggiunta praticamente degli allergeni Cioè delle sostanze che possono creare reazioni allergiche Che praticamente è obbligatoria ormai E l'indicazione dei grassi che vengono praticamente utilizzati Soprattutto per alcuni prodotti commerciali E dal 2016 sarà obbligatoria quella che noi chiamiamo dichiarazione nutrizionale Attualmente questa che è molto importante per la salute È voluttuaria da parte del produttore Non è obbligatoria Dal dicembre del 2016 diventerà obbligatoria Ma questo Sì ci sono ancora degli alimenti quindi che non ce l'hanno così belle scritte carine Esattamente Anche se sempre di più Anche su queste che possono essere meno apparentemente meno importanti E direi che laddove il consumatore trova l'etichetta nutrizionale È importante che si approfondisca Innanzitutto andando a valutare gli ingredienti La legge prevede che gli ingredienti siano indicati per quantità Decrescente Quindi ad esempio se io trovo un prodotto nel quale ci sono fra i grassi L'olio extravergine d'oliva e la margarina Che sappiamo che è un grasso di qualità più scadente Nel prodotto in cui trovo prima l'olio e poi la margarina Lo preferirò rispetto a un altro prodotto in cui invece è il contrario Perché so che c'è una quantità maggiore di un altro grasso Secondo me noi dovremo rivederci presto Perché io vorrei con te affrontare anche il discorso di tutti gli eccipienti Tutti quegli E coloranti Ci sono Ci sono Non hanno valore nutrizionale ma possono dare dei problemi di allergia Ma sull'etichetta noi al di là di non so grassi, proteine E tutte queste altre ammennicoli di cui parlavamo Che cos'altro possiamo e dobbiamo leggere Non so la scadenza, la consumazione La scadenza sicuramente Che sono altre indicazioni obbligatorie per legge La scadenza poi attenzione Perché la dicitura è in certi casi da consumarsi preferibilmente entro Il che vuol dire che possiamo proseguire ancora qualche giorno Oltre la data indicata E invece quando c'è scritto da consumarsi entro Categoricamente vuol dire che quella è la scadenza che bisogna rispettare Questo più per i prodotti freschi, latte, yogurt e così via Stare attenti anche a come c'è scritto di conservare le cose Una curiosità Andrea Qui abbiamo per esempio un prodotto dove c'è scritto Latticino light, meno 30% Ma di che meno 30%? Questa è una delle trovate dell'industria alimentare Che ha pensato di ridurre Diciamo l'apporto del contenuto di grasso in certi alimenti Rendendo questi alimenti light Sta di fatto che questa cosa non è risultata vincente Sotto il profilo di una politica antiobesità Perché vediamo insomma che la situazione purtroppo non è migliorata Ma poi la riduzione del contenuto di grasso ovviamente riduce la palatabilità di certi alimenti Per cui il consumatore poi è portato a consumare di più In realtà siamo allo stesso punto Insomma meno 30% non si capisce bene di che Altro problema Chi deve osservare un regime dietetico Vabbè adesso non parleremo dei celiaci che devono avere invece un bel marchio grande Quella spiga barrata di cui tu spesso ci hai parlato Ma chi invece vuole fare solamente un po' di dieta Si può La riduzione nutrizionale quando la si trova è preziosa La cosa importante e qui bisogna stare attenti Che non tutti indicano la quantità per porzione Molti indicano la quantità per 100 grammi Invece è opportuno trovare confezioni in cui noi andiamo a valutare quello che stiamo mangiando La porzione di quell'alimento cioè quel biscotto, quella merendina Perché se qui mi parlano di 100 grammi di biscotti poi io apro e un biscottino devo sapere esattamente quante calorie mi dà Non c'è più scritto niente Questo vale come Quindi preferire Anzi anche spesso per i credits Per i credits Si preferire quindi le confezioni in cui si riesce a valutare non solo l'apporto calorico per 100% Ma quello per porzione che è sicuramente più adeguato ad un consumo consapevole Io vorrei dire una cosa Molte persone, questo è un messaggio che vorrei mandare in trasmissione Molte persone quando vanno al supermercato preferiscono alimenti che hanno una lunga conservazione Bisogna stare attenti Quando un alimento si conserva a lungo vuol dire che ci stanno molti conservanti Cerchiamo quando andiamo al supermercato di prendere alimenti freschi E poco gli alimenti trasformati e conservati Perché lunga conservazione vuol dire presenza di sostanze estrane E quindi preferiamo i surgelati magari, i cibi freschi piuttosto che quelli conservati Naturalmente questo non c'entra però con quello che può essere la pasta, il riso Naturalmente no, in generale per i cibi conservati Vorrei chiudere con una nota carina Perché anche nelle diete più severe che tu dai A chi cerca disperatamente di perdere qualche chilo O una tantum o il bicchiere di vino Che insomma, però sul vino l'etichetta nutrizionale non c'è Dovrebbe esserci anche... La legge va indicato il titolo alcolimetrico E' l'unica cosa che ci può interessare L'alcol ha un valore calorico standard La legge prevede solo che venga indicato il titolo alcolimetrico Cioè i gradi praticamente e questo c'è E questo c'è Allora noi vi auguriamo di fare un buon brindisi Speriamo che abbiate capito con dovizia di particolari Che leggere le etichette è un nostro dovere, è un nostro diritto Insomma le dobbiamo leggere Grazie per essere stati con noi Ricordate che questa puntata potrete vederla insieme a tutte le altre Sul nostro sito www.vgchannel.com Arrivederci alla prossima Ciao amici di salute e bentrovati al centro Oggi con noi Armando col Wingshu Salve sono Armando, sono qui in compagna di Marco Oggi vi mostro una difesa da un attacco circolare Allora Marco mi attacca Ok lentamente Marco mi attacca Intercetto il suo braccio facendo un passo dietro Faccio uscire la forza, la sua forza verso un'altra direzione E lo controllo Ok Decisivamente lo posso spingere oppure lo posso attaccare Nel caso in cui mi sento più o meno aggredito C'è un'altra difesa che io posso effettuare che è più attiva È più energica Lui mi attacca e io rompo la sua linea di forza Successivamente lo posso portare giù Controllandolo Lentamente Mi porto ad un attacco Prendo un angolo favorevole Rompo l'equilibrio Successivamente Lo controllo Sia la parte alta che la parte bassa Questo è D'altro al centro Arrivederci alla prossima puntata